Allora, è molto interessante dal mio punto di vista anche dell'analisi economica storica. Se avete voglia vi faccio un disegnino di come la vedo io. Allora, normalmente c'erano le immagini dei risparmiatori arrabbiati, no? Di solito il risparmiatore non veniva mai toccato storicamente da una banca perché serviva molto banalmente. Era un po' come il ciclo dell'acqua, vale a dire il risparmio delle famiglie che erano strutturalmente in surplus, vale a dire la famiglia deve avere più denaro di quello che spende perché serve per gli imprevisti. Allora, il risparmio andava in banca, la banca lo prestava all'azienda che invece è sempre in deficit perché in teoria produce cose che valgono di più del costo del denaro a prestito, no? Quindi passava dalla famiglia all'impresa che a sua volta assumeva il lavoratore della famiglia, no? Creava occupazione. Esatto, creava occupazione. Quindi questo è un circolo che funzionava benissimo. Adesso invece cosa succede? Succede che da un lato l'impresa ha sempre meno bisogno di manodopera, il capitale se lo procura da una banca che ha sempre meno bisogno di risparmi perché la banca ultimamente riceve direttamente denaro dalle banche centrali tramite quantitative easing e così di questo tipo. Quindi non serve neanche più questa famiglia, diciamo così, la banca che si preoccupa di prendere denaro da tutta altra parte piuttosto che dalla famiglia ha come unico in questo momento interesse a trovare il cliente, vale a dire l'impresa che prende a prestito. L'austerità che ci viene indotta da tante regole europee e così di questo tipo comporta che l'attività economica langue e quindi pochissime imprese chiedono finanziamenti perché... Anche perché ci sono dei parametri molto stringenti per avere credito. Ma essendo appunto questo diventa rischioso ma soprattutto non c'è crescita e quindi se non c'è crescita è difficile che si trovi l'imprenditore pronto a rischiare e prendere a prestito per fare il capannone per allargare. Quindi è tutto frutto di questo circolo vizioso. È proprio un sistema che si sta, secondo me, rompendo nelle sue determinanti storiche che avevano contribuito a una stabilità e a una crescita. Interessante studiarlo, secondo me. Allora, abbiamo...